Nonna! Nonno! Mickey! Cosa hai fatto il turno di notte? Mi hanno messo in cella. Cosa? Sì, ma non ho tempo per spiegarvi ora. È il momento di Megamindi, nonno. Devo andare al furgone di Delia Crudelia. Come se fosse fatto! Fa presto, blip! Blip, blip! Eccomi fu che è meglio mio! Pronti per il lancio! Dieci! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Pronto, capo? Capo? Capo, ho qui i piani. Questa sì che è una buona notizia. Portameli immediatamente. Neanche se mi preghe. Ora sono miei e non ho nessuna intenzione di portarteli, mio caro. È ora di scendere, Delia. E tu che sei? Io sono Megamindi e tu sei una ladra. E se c'è qualcuno che Megamindi non sopporta, sono proprio i ladri. Togliti dai piedi, stupida Megamindi! Tobey, puoi venire a prendere Delia. È qui ai miei piedi. No, per favore, no! E ho anche i piani. Grazie, Megamindi. Non ringraziare me e mammi. È lei che ha passato tutta la notte dietro le sbarre. Cosa è una bella? No... ... Grazie a tutti.